È necessario l'impegno di tutti per promuovere l'accoglienza, l'incontro, la solidarietà in una concreta opera di sostengo e di rinnovata promozione della speranza, contribuendo in tal modo a rompere l'isolamento e in molti casi anche lo stigma che gravano sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico, come spesso anche sulle loro famiglie. Papa Francesco è abbracciato con affetto i partecipanti alla 29esima conferenza internazionale del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari sul tema La persona con disturbi dello spettro autistico, animare la speranza. A tutti ha chiesto di accompagnare, non in modo anonimo e impersonale, quanti sono affetti da autismo, così come le famiglie, troppo spesso ripiegati nella solitudine, Auspicando una rete di sostegno e di servizi sempre più efficace, il Pontificio ha poi incoraggiato l'impegnativo lavoro degli studiosi e dei ricercatori affinché si scoprano al più presto terapie e strumenti di sostegno e di aiuto per curare e soprattutto per prevenire l'insorgere di questi disturbi, salvaguardando sempre la dignità di cui è rivestita ogni persona. Alla fine dell'udienza, Papa Bergoglio ha chiesto di pregare per il Cardinale Fiorenzo Angelini, spentosi nella notte a Roma. Il porporato 98enne era presidente merito del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.